L'Ance di Chieti ha manifestato questa mattina nella figura del Presidente Angelo De Cesare un convinto apprezzamento per l'iniziativa portata a compimento dal Comune che riguarda la costituzione di un albo di imprese del settore edile che servirà per l'affidamento di lavori mediante procedura negoziata. C'è però anche una nota polemica e riguarda in modo particolare il numero di affidamenti ed il numero di importi affidati all'impresa teatine. Confrontando infatti le percentuali pubblicate dal Comune e quelle del Lance si nota una netta differenza nei numeri. Ad esempio per il Comune la percentuale di affidamento alle ditte locali è del 53,70% mentre per l'Ance la percentuale scende in maniera netta al 22,22% per quanto riguarda il numero di affidamenti e al 7,79% per quanto riguarda il numero degli importi. Una situazione quindi tutta da chiarire con l'Ance che chiede soprattutto di usare un criterio trasparente per attingere dall'albo senza fidarsi al casuale sorteggio che penalizzerebbe le ditte teatine e l'economia locale. E' chiaro che noi facciamo un discorso sia percentuale di media ma sia soprattutto anche di importi perché se poi noi prendiamo 10 gare da 20.000 euro e poi ce n'è una di 3 milioni di euro che favori Regione le medie cambiano. Un po' il discorso del pollo che facevo prima le medie si dice che in Italia ogni famiglia ogni settimana mangia un pollo poi ci sono le famiglie che il pollo mangiano tutti i giorni e le famiglie che il pollo lo mangiano per un anno. Detto questo abbiamo avuto modo di vedere che nelle ultime 10 gare per le quali, ripeto, noi abbiamo fatto l'accesso agli atti la percentuale di imprese di Chiedi e della provincia di Chiedi invitata è veramente irrisoria. Abbiamo chiesto che come tutti gli enti locali d'Italia anche come di Chiedi si dotasse di un elenco delle imprese iscritte dal quale attingere con un criterio chiaro e trasparente in modo che in futuro si potrà sapere in base anche alle dimensioni del lavoro e alle dimensioni dell'impresa quale criterio verrà adottato anche per scegliere all'interno di quest'albo di fiducia perché sul sorteggio noi siamo piuttosto dubbiosi sia sulle modalità del sorteggio e sia perché essendo un sorteggio è affidato al caso.